ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video è un video refill fatto ad una mia cliente e questa volta ha scelto di farsi tutte le unghie di questo colore merlot che l'ho acquistato su passioni unghie quindi di passioni unghie che avete visto nel video l'ultimo despacchettamento di passioni unghie e nell'anulare ha scelto questo il grigio quello che aveva i micro brillantini all'interno che aveva che ha scusate il mood si chiama sempre di passioni unghie tutti i due colori nuovi che ho acquistato ecco mi pare la scorsa settimana era che avevo fatto anche il video haul diciamo di acquisti che ho fatto su passioni unghie e due passate sia il merlot e invece il grigio tre passate soltanto per cui ho fatto vedere che ne facevo solo due le passate insomma infine easy o gloss di passioni unghie e dopo andando lo sgrassare con lo sgrassatore col cleaner insomma nella fine l'olio cuticole quindi lo sgrasso anche poi con l'olio cuticole qui ho utilizzato le punte nuove anche della fresa per fare la dremanico 3 russa e mi piace veramente tanto come è venuto il giro cuticole proprio pulito perfetto niente io vi lascio il video spero che vi piacerà se sarà così metterete pollice in su sotto al video se volete commentatemi e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao